Ecco, allenamento degli primi calci, sono i piccoli baby calciatori della scuola calcio della Virtus Castelfentano, oggi è venerdì, l'ultimo giorno di allenamenti di questa settimana, ecco vediamo c'è mister Giulio Massimini e mister Simone Giordano da questa parte che controllano il loro gruppo di ragazzini, sono divisi con le casacche arancione e la rivisa. Il mister sta dando suggerimenti ai ragazzini come toccare la palla e che movimenti devono fare, da quest'altro lato c'è un altro gruppetto di quattro ragazzi tra cui c'è il portiere Pizzi con la maglia giallo-nera, giallo-blu, non si vede da questo paio, là in fondo c'è un altro gruppo di ragazzini, ragazzini che giocano con una porta sola, alla mia sinistra c'è il presidente della Virtus e contestualmente con duplice funzione di responsabile dell'area tecnica Renato Tucci col suo gruppetto di piccoli. ecco sta dando lezioni, sta facendo fare degli esercizi ai ragazzini ecco, tipo possesso di palla come movimento, ecco, sono degli attrezzi, terra-pirilli, palloni, ecco, tocca a Francesco eseguire l'esercizio ragazzino segua la perfezione, l'esercizio è disposto dal mister ecco, adesso parte così a rotazione eseguono tutti l'esercizio preparato dal mister ovviamente chi non lo fa bene glielo fa ripare il mister fino a quando non si raggiunge la perfezione adesso parte un altro ragazzino ecco, adesso arriva, salta per avere controllo e equilibrio e corretta postura ecco, questo è l'ultimo, ecco, riparte un'altra volta Francesco con il solito schema predisposto a questo altro lato c'è mister di Giulio Giovanni con l'altro gruppo dei suoi ragazzi che si accinge una partitella tra loro ci sono i ragazzini con la casacca gialla e i ragazzini con la casacca granata ecco, ancora la partitella, possesso di palla a questo altro lato c'è un altro gruppo di ragazzini, prima c'era mister Camillo ma penso che viene da qualche altra parte qua in punto c'è un altro gruppo di ragazzini che giocano a una porta ecco, possesso di palla, dribbling, dribbling, dribbling e puntamento in porta a quest'altro lato c'è un altro gruppo di ragazzini, sempre una partitella con una porta sola, dribbling fra di loro, possesso di palla eh, perso di palla, tocco e tiro in porta, vediamo se c'è il tiro in porta ecco l'unica lady della scuola calcio, si chiama Sara c'è un'altra ragazza nell'organico, mi pare Samantha, ma non lo vedo, non so se ecco, ecco, vediamo i ragazzini come si divertono è una bella giornata di sole, un po' di venticello, ma l'aria, la temperatura è sopportabile anche perché stiamo quasi alle porte della primavera ecco, qua c'è la panoramica, tutto lo stadio, qua, il nuovo di via Olimpia Basta! 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 All'inizio che stanno arrivando gli altri ragazzi, si, bisogna tenere conto degli orali di scuola, ritornano a casa eh, ma adesso le giornate si sono allungate e quindi non c'è la paura che si fa a notte ecco mister Camillo di Piase è andato a prendere l'attrezzatura una bella panoramica di tutti questi bevi calciatori della scuola calcio, della Virtus Castelfrentano che si allenano in questo bel pomeriggio di sole il nostro mister Camillo Giovanni Di Giulio là in fondo mister Renato la in punto in punto in punto abbiamo mister Bruno Massimini e all'altro lato c'è Simone Giordano ecco gli ultimi avvivati incontro io vi lancio una patta.. Ma dovete stare attenti alla posizione del corpo che vuole essere un po' unico, un diagonale Grazie a tutti.